Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, i 21 paesi più vicini all'epicentro del sisma registrato alle 11.36 sono 21 per quanto riguarda la provincia di Alessandria, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casalnoceto, Casasco, Castellarguidobono, Monperone, Monleale, Montemarzino, Pozzogroppo, Volpedo e Volpellino. In provincia di Pavia, Cecima, Codevilla, Godiasco, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Riva Nazzano Terme, Rocco Susella, Torrazza Coste e Voghera. Siamo al telefono con il coordinatore della protezione civile di Voghera, il signor Giuseppe Carbone. Ci sono stati dei danni a livello di strutture a Voghera e in zona oppure no? Stiamo verificando proprio adesso e mi stavano dando un erito di una scuola, il punto lo faremo dopo le 4, se è questo che interessa, perché io penso che entro le 4 abbiamo un po' la mottatura dei nostri edifici, ecco, scolastici, non scolastici, palestre, non palestre, perché abbiamo fatto un monitoraggio di tutte queste cose qua. Io al momento non le so dire granché, ecco, diciamo, perché a parte l'uscita delle scuole e l'uscita dei ragazzi che sono andati a casa in modo, diciamo, fra virgolette tranquillo, per quello che possono essere tranquilli i genitori quando ci sono queste situazioni un po' così. Però a grandi linee, per il momento, se non si suspegono altre scorse che potrebbero anche susseguirsi, questo qui non riesce a dire niente. Ok, ecco, stamattina si è parlato di Epicentro Casalnoceto, può confermarlo questo oppure no? No, io, ecco, l'Epicentro e cose del genere, questa mattina ho ancora una fila di chiamate, non ho, ho preferito dare una mano nel gestire quello che erano i nostri, diciamo, istituti, istituti, le nostre scuole, le nostre città, anche per rendere, diciamo, meno confusa la situazione di questo momento di, non dico panico, ma di… Preoccupazione, certo, certo. Sì.